Eccoci, buonasera. Il telegiornale parte dalla brusca presa di coscienza da parte delle forze politiche della maggioranza sul fatto che sulla prescrizione evidentemente le vie sono completamente divergenti. Da una parte c'è un accordo ormai evidente tra il PD e i 5 Stelle e c'è il disaccordo completo da parte di Italia Viva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che da un lato sono pronti a un provvedimento che dovrebbe entrare nel decreto 1000 proroghe che blocca per due mesi il blocco della prescrizione che è in vigore da gennaio. Questo vorrebbero le forze politiche che hanno contratto l'intesa, cioè PD, 5 Stelle e l'EU. E dall'altra parte però c'è Italia Viva che dice assolutamente no, non siamo d'accordo, non lo voteremo e siamo pronti a una mozione di sfiducia contro il ministro della giustizia Bonafede. Questa minaccia che arriva da Italia Viva viene respinta con durezza dal PD che ironizza con una velina delle sue fonti dicendo tanto rumore per nulla come direbbe Shakespeare ma con Franceschini che è il capo delegazione del PD si dice se c'è una mozione di sfiducia contro tutto il governo, la prenderemo come una mozione di sfiducia contro tutto il governo vuol dire andare in sostanza alla crisi. Questa drammatizzazione sembra la classica situazione in cui nessuno vuole premere il freno, vuole spingere il pedale del freno e tutti stanno andando dritti verso lo scontro. Stasera riunione dei parlamentari di Italia Viva con Renzi, prenderanno la decisione finale. Poi vedremo quello che succederà. Ovviamente il governo e come tutti i governi del mondo sta affrontando l'emergenza coronavirus da parte appunto del nostro esecutivo dopo una riunione questa mattina a Palazzo Chigi la linea di tenere altissima la guardia quindi stop fino a quando la situazione non si sarà placata a tutti i contatti aerei diretti con la Cina e in piedi tutte le misure che sono state prese per l'emergenza. Un aereo militare riporterà in patria quel giovane 17enne che si trova bloccato a Wuhan. Ma vedremo anche che ci sono molti altri fatti. Oggi giorno del ricordo le foibe a Basovizza, i rappresentanti di quasi tutte le forze politiche ma quello delle foibe resta un ricordo diviso come si è visto anche oggi e soprattutto c'è la scia del fatto che per troppo tempo, per tanto tempo, tempo non è mai soltanto troppo, per lungo tempo si è tenuta in disparte, quasi occultata questa tragedia nella tragedia della seconda guerra mondiale. Ma vedremo anche altro perché c'è quella vicenda di quel giovane Zaki, quell'egiziano che studiava all'università di Bologna arrestato in patria per terrorismo, c'è la mobilitazione internazionale e come vedremo dalle ultime notizie ci sono forti rischi per lui ma anche la possibilità è che intervenga la chiesa copta egiziana che ha un forte credito e che viene rispettata dal presidente Sisi dal regime, chiamiamolo egiziano, e il giovane è di religione copta. E poi c'è la Tarum, come ogni lunedì di Milena Gabanelli e essendo lunedì ci sono anche i sondaggi politici. A tra poco! Renzi non cede sulla prescrizione, si sfiora la rottura con gli alleati. Italia Viva non voterà il lodo Conte B, sfirmato da 5 Stelle e PD e Leo e minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Se Renzi vuole aprire la crisi lo dica pure, risponde il reggente del movimento. Crimi, se sfiduciano Bonafede, sfiduciano tutto il governo e si fa il gioco di Salvini, dicono dal PD. Il lodo Conte Bis dovrebbe essere inserito nel mille proroghe con un emendamento nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il governo affronta l'emergenza coronavirus con un vertice di tre ore a Palazzo Chigi. Confermate le misure adottate. Nonostante le rimostranze di Pechino, il blocco dei voli con la Cina durerà fino al calo dei contagi. Sarà esteso l'utilizzo dei termoscanner per rilevare la temperatura. Si cercano soluzioni per gli effetti negativi sull'economia. Un volo militare riporterà in Italia il G17, rimasto a Wuhan. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il bilancio ufficiale è ormai oltre i 910 morti, più di 40.000 contagi. Celebrata la giornata del ricordo per le 20.000 vittime delle foibe, le esecuzioni sommarie in Istria operate dai partigiani di Tito tra il 43 e il 45, il tema delle foibe resta divisivo e tormentato per la memoria storica del paese. Una tragedia la quale non è stato dato rilievo per superficialità o per calcolo, ha detto il Premier Conte. Nel nostro sondaggio del lunedì la Lega lascia sul terreno poco più di un punto, ma resta prima e con ampio vantaggio. Nel centro-destra flette anche Forza Italia, meno 0,9, a vantaggio di Fratelli d'Italia, vicino all'11%. Il PD supera la soglia del 20%, stabile il Movimento 5 Stelle, ma riguadagna solo un decimale Italia viva. Insomma, l'Italia resta divisa in due. Cresce la mobilitazione per chiedere alle autorità egiziane il rilascio del giovane ricercatore Patrick Zaki, che frequenta l'Università di Bologna, arrestato venerdì scorso in patria con l'accusa di essere un terrorista. Il giovane egiziano in carcere avrebbe subito torture, secondo i suoi legali. Sui social si chiede che qualcuno intervenga. Forse lo potrebbe fare la chiesa copta. Di lotta ai tumori si occupa questa sera il data room di Milena Gabanelli. Solo in Italia, nel 2019, sono stati diagnosticati 371.000 casi. Si indaga poco sulle possibili cause. Principali indiziati composti chimici, onde elettromagnetiche. E spesso i risultati degli studi sono contrastanti tra di loro. Nel nostro paese poi si investe, anche da questo punto di vista, poco nella ricerca. Appena 21 milioni di euro contro una spesa di 5 miliardi per i farmaci chemioterapici per curare i tumori stessi. Buonasera, e quindi il telegiornale parte dalla brusca drammatizzazione della situazione politica. Ancora la vicenda della prescrizione al centro e di un braccio di ferro che si è fatto sempre più duro tra le forze, appunto componenti, la coalizione di governo con Italia Viva che fa balenare l'ipotesi di una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia e le altre forze, cioè PD e 5 Stelle che dicono questa provocazione non va da nessuna parte. Se si vuole provare a sfiduciare un Ministro vuol dire tentare di sfiduciare l'intero governo. E comunque già solo parlare di mozione di sfiducia vuol dire creare di fatto la crisi di governo. Escalation di toni e minacce tra Renzi e il resto della maggioranza sulla prescrizione. Italia Viva arriva a ipotizzare una mozione di sfiducia al guardasigilli Bonafede, il PD perde la pazienza. Anche solo l'annuncio giustificherebbe la crisi, ribattono i Dem. Zingaretti vuole scoprire se è un blef. Italia Viva sembra una commedia di Shakespeare, molto rumore per nulla provoca il Nazareno. Matteo Renzi rilancia la sfida con un durissimo post. Hanno detto che mollavamo e mi sarei venduto per due poltrone, le nomine di primavera per capirsi. Fake news, non si molla se davvero presenteranno decreto o emendamento su prescrizione, noi voteremo contro. Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da zecca garbugli, a testa alta. Poche ore fa Roberto Giacchetti aveva formulato più precisamente il distinguo. È una riforma liberticida se continuano con questa forzatura. Il ministro Bonafede si ritroverà una bella mozione di sfiducia. Il governo rischia, si blocchi tutto, la soluzione nelle mani di Conte, tira solo un po' il freno Teresa Bellanova. Mentre si inaugura a Roma la prima sede del partito di Renzi, in una ex sezione del PD del centro storico. I Dem replicano brutto muso con Dario Franceschini. Se un partito di maggioranza minaccia di sfiduciare un ministro, sta minacciando di sfiduciare l'intero governo. E ancora dal Nazareno si alza la posta. Italia Viva, dopo l'Emilia, sta montando una confusione sul nulla, con l'effetto di permettere a Salvini di nascondere la sconfitta. Non esiste, è già motivo di crisi, che un partito di maggioranza annunci una mozione di sfiducia a un ministro. Italia Viva, nata a parole per allargare il campo contro Salvini, è diventata il partito che logora il campo e fa un favore a Salvini. Insomma, toni ultimativi, dai quali è difficile tornare indietro. Interviene anche il regente del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che parla di minacce inaccettabili. Se Renzi intende aprire la crisi di governo, lo dica chiaramente. Bonafede ha fatto un ottimo lavoro e l'accordo sulla prescrizione è di assoluto buonsenso. Fatto sta che, per ora, l'emendamento annunciato da PD 5 Stelle e l'EU al decreto mille proroghe in discussione alla Camera non arriva. Ci sono dubbi seri di ammissibilità. Per entrare nel mille proroghe deve prevedere una sospensione della riforma a Bonafede, lo stop alla prescrizione scattato da gennaio, e sostituirlo con la nuova norma che la ferma in via definitiva con due condanne, contenendo una modifica delle norme penali e ora il dubbio dei tecnici. La sospensione dovrebbe essere più consistente, non solo fino a marzo, come si ipotizzava. Sulla ammissibilità contestata da renziani e opposizioni decideranno i presidenti delle commissioni affari costituzionali e bilancio, il 5 Stelle Brescia e il leghista Borghi, sentito il presidente della Camera Roberto Fico. Affondano le opposizioni, emendamento inammissibile e incostituzionale, tuona la capogruppo di Forza Italia, Maria Stella Gelmini. Se il presidente della Camera avvalerà questa forzatura, chiederemo udienza al capo dello Stato. È una sfida vera e propria, ma è come ha detto Franceschini, se un partito di maggioranza minaccia di sfiduciare un ministro, sta minacciando di sfiduciare l'intero governo. È quello che sta succedendo, lo capiremo soltanto in serata, dopo la riunione dei parlamentari di Italia Viva con Renzi. Quel che è certo è che su questa vicenda qualcuno ne uscirà sconfitto, o Bonafede se si dovrà davvero dimettere, o Renzi e Italia Viva se passerà quell'accordo che appunto vede allineate tutte le altre forze della maggioranza. Ma comunque sia, questo è un momento difficile, un passaggio difficile per il governo, che teoricamente avrebbe altro di cui occuparsi. Come stiamo per vedere? Intanto la vicenda coronavirus. Sul coronavirus oggi sono due le notizie preoccupanti. La prima è che il periodo di incubazione potrebbe estendersi fino a 24 giorni, 10 in più di quanto indicato finora, almeno secondo uno studio realizzato dai ricercatori cinesi, confermato da Zhong Nashan, medico che nel 2003 scoprì il virus della SARS. La seconda arriva dal direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che afferma ci sono stati casi di diffusione da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, che potrebbero essere la punta dell'iceberg. Nonostante il bilancio ad oggi di 909 morti e oltre 40.200 contagi in Cina, il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si mostra cautamente ottimista. Abbiamo una finestra di opportunità per sconfiggere il nuovo coronavirus, visto che al momento i casi fuori dalla Cina non sono più di 390. Dobbiamo sfruttare questa occasione ora. A dargli ragione sono i numeri. Il 99% dei casi è in Cina e la maggior parte è lieve. Circa il 2% è fatale. È all'8,2% il tasso di guarigione dal 1,3 del 27 gennaio, grazie all'efficacia delle cure. Un team di esperti internazionali è in viaggio per la Cina per collaborare con i colleghi nella risposta all'epidemia, mentre con lo slogan ufficiale, tornare al lavoro in modo ordinato, cominciano a riaprire uffici e fabbriche del dragone. In borsa gli investitori scommettono sui titoli delle aziende biotech che cercano rimedi all'epidemia. Wuhan è una città eroica. La gente dell'Ubei è eroica, tuona il presidente cinese Xi Jinping da Pechino. Finché i nostri compagni lavoreranno insieme, combatteranno con sprezzo del pericolo e supereranno le difficoltà, noi metteremo a segno una vittoria piena nella lotta all'epidemia. Delle tre navi da crociera in viaggio nei mari del sud-est asiatico, intanto bloccate per sospetti contagiati a bordo, solo la Diamond Princess resta ancorata nel porto di Okohama in Giappone. 135 sulle 3.700 totali, le persone risultate positive al test del coronavirus. Risultano invece non contagiati i 35 italiani, uno dei quali è il comandante della nave. Mentre in Europa, a Brighton, nel Regno Unito, un ambulatorio viene chiuso a scopo precauzionale. Uno dei medici della struttura è risultato positivo al test. Era stato a Singapore per un congresso e faceva parte degli ospiti, tutti inglesi, dello Chalet sulle Alpi francesi, dove sono stati registrati altri casi di infezione. Su questo fronte, che evidentemente è difficilissimo da affrontare e che ogni giorno ci riserva numeri più gravi e pesanti, tutti si aspettano che più o meno alla mezzanotte italiana, quando viene aggiornato da Pechino il nuovo bilancio, si arriverà alla cifra di mille vittime. Già superati ieri sera, del resto, i 40 mila casi nella sola Cina. Ma in Italia, appunto, che cosa si sta facendo? Un vertice lungo tre ore e, infine, la conferma. Tutte le misure fin qui adottate per limitare la diffusione nel nostro paese del coronavirus al momento non si toccano. Al tavolo a Palazzo Chigi, oltre al Premier Conte e al commissario straordinario Borrelli, c'erano anche i ministri Di Maio, Gualtieri, Franceschini, Speranza, Guerini. Al termine della discussione un breve comunicato in cui in sostanza vengono giudicate adeguate a rischio tutte le decisioni prese sino ad ora, soprattutto il blocco aereo per i passeggeri provenienti dalla Cina, una misura preventiva che ha avuto un ovvio impatto negativo sul settore turistico. Resterà in vigore fino al calo dei contagi, ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Anche per questo, nello stesso comunicato di fine vertice, viene annunciato un'istruttoria per trovare una soluzione agli effetti negativi dell'allarme sanitario sull'economia del nostro paese. Nel frattempo, il monitoraggio negli aeroporti continua. Anzi, in serata arriva l'annuncio che gli scanner in grado di rilevare la temperatura su tutti i passeggeri in arrivo da voli internazionali verrà estesa anche a quelli partiti da aeroporti italiani e a quelli in transito nello scalo di Fiumicino. Da pratica di mare partirà entro domani mattina l'aeromilitare che dopo due tentativi andati a vuoto riporterà in Italia il 17enne Friulano, il cui rimpatrio era stato rinviato per febbre. Nelle ultime ore le sue condizioni sono migliorate. Entro mercoledì dovrebbe tornare sullo stesso volo che ha riportato nel nostro paese gli otto italiani rimasti per giorni nella provincia di Ubei e arrivati ieri mattina e poi portati nell'ospedale del Celio a Roma. Sono ancora ricoverati in un altro ospedale lo Spallanzani gli unici tre casi accertati in Italia di coronavirus. Nel bollettino diffuso oggi vengono definite stazionare sia le condizioni dell'unico italiano affetto dal virus che della coppia di cinesi ancora ricoverati nel reparto di terapia intensiva. La loro prognosi resta riservata. Buone notizie arrivano invece da due bambine di 4 e 8 anni ricoverate ieri allo Spallanzani in via precauzionale. Facevano parte del gruppo dei 58 italiani rientrati da Wuhan ed allora in quarantena nella città militare della Cecchignola. Erano state portate all'istituto per le malattie infettive per un lieve innalzamento della temperatura ma per entrambe i test per la ricerca del coronavirus sono risultati negativi. Forse avrete visto al vertice in quel tavolo c'era presente anche Crimi non come reggente del Movimento 5 Stelle ma come viceministro degli interni in luogo della ministra Lamorgese. Ma c'è un'altra questione che oggi ha toccato la politica italiana e non soltanto perché è il giorno del ricordo. Ora ve lo voglio dire subito chi come me a un'età ormai ragguardevole ha fatto le scuole negli anni 60 e 70 sa che delle foibe non si parlava. È stata a lungo occultata questa parte terribile degli anni di guerra immediatamente successivi ed è benemerito che ci sia un giorno in cui riportare l'attenzione su quella tragedia nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Alla tragedia delle foibe non è stato dato rilievo per superficialità o calcolo. Le parole odierne del Premier Conte ben sintonizzate su quelle pronunciate ieri dal Presidente Mattarella arrivano a 16 anni dall'istituzione della giornata del ricordo il 10 febbraio del 1947 lo ricordiamo è la data del Trattato di Pace di Parigi che stabilì nuovi confini di tutta l'area e danno bene l'idea di quanta fatica si debba ancora fare perché la storia e i fatti storici possano essere guardati senza le pericolose lenti dell'ideologia. Parlare delle foibe significa infatti parlare delle sommarie esecuzioni avvenute in Istria a fiume in Dalmazia nel 1943 dopo l'8 settembre e dopo la fine della guerra nel 1945 quando i partigiani comunisti del Marsciallo Tito vi gettarono migliaia di persone colpevoli solo di essere italiane fasciste o contrari al regime comunista. 20.000 le vittime calcolate poco meno di 300.000 gli esuli costretti a lasciare le loro case. Parlare delle foibe le cavità naturali tipiche della regione carsica significa soffermarsi su quello che per troppi anni fino ai primissimi anni 90 in fondo dopo la caduta del muro è rimasto forse più imbarazzante dei buchi neri che il passato le scorie del fascismo e della guerra aveva servito alla nostra memoria. Un buco nero a lungo rimosso dalla sinistra e non solo in cui si sono annidate per anni le radici di un odio abituato a non fare mai troppo volentieri i conti con la realtà poi diventato non per nulla una sorta di monumento in negativo per la destra come confermato oggi dalla cerimonia solenne a Bassovez teatro di uno degli ecidi più efferati presenziata da Salvini dalla Meloni dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga e dal senatore Gasparri e anche da lì con il PD che non ha gradito a quanto pare l'intervento di Gasparri rappresentanza del senato è arrivata l'ennesima conferma di quanto la materia sia ancora difficile da maneggiare soprattutto restando in quella pervasiva logica da bianco e nero così tipica del nostro dibattito politico questo per ricordare cosa sono state le FOI ma poi ci sono i problemi del presente e del futuro l'anno che ci siamo lasciati alle spalle da poco più di un mese è stato il peggiore dal 2013 per quanto riguarda la produzione industriale un campanello d'allarme ulteriore sappiamo che quest'anno si dovranno fare i conti anche con quello che sarà l'effetto sull'economia sugli scambi sui commerci del coronavirus crolla la produzione industriale italiana nel 2019 una frenata che va oltre le previsioni più pessimistiche i dati diffusi dall'istat sono una doccia fredda meno 1,3% con una flessione ancora più marcata a fine anno meno 2,7% a dicembre per trovare numeri peggiori di questi bisogna tornare indietro di 6 anni al 2013 per il settore auto addirittura al 2012 è questo infatti il comparto più penalizzato con una contrazione addirittura del 13,9% 8,6% a dicembre male anche tessile chimica farmaceutica elettrodomestici mentre tengono alimentari elettronica industria manufatturiera voci strategiche per il nostro export messo a dura prova da alcuni fattori la crisi che sta attraversando l'intera eurozona a partire da Germania e Francia e poi la guerra dei dazi ma ora a fare paura sono le conseguenze sull'economia mondiale del coronavirus la sindrome cinese rischia di farsi sentire su due settori cruciali per l'economia italiana il turismo e il lusso per quanto riguarda il primo l'impatto è stato calcolato in oltre un miliardo e mezzo di minori entrate mentre il Made in Italy che vede in Cina uno degli sbocchi più importanti prevede già soltanto nella moda un calo di un punto e mezzo con il campanello d'allarme del PIL stimato nel quarto trimestre del 2019 a meno 0,3% il ministro dell'economia spera nel cosiddetto rimbalzo congiunturale a gennaio Gualtieri attribuisce il calo della produzione non solo a fattori tecnici destagionalizzazione dei dati e giorni di vacanze effettivi ma soprattutto ad un indebolimento della domanda internazionale quindi delle esportazioni alcuni indicatori segnalano secondo il numero 1 del MEF un significativo miglioramento nel mese di gennaio ma tutto lascia immaginare che l'effetto Cina si farà sentire a lungo allora andiamo a vedere altri numeri più aleatori visto che sono quelli settimanali del nostro sondaggio con SVG cosa succederebbe se si votasse oggi la Lega lascia sul campo in una settimana l'1,1% e comunque al 32,2% dietro il partito democratico guadagna a sua volta l'1% col 27 e il Movimento 5 Stelle resta inchiodato a quota 14% più 0,1% rispetto a sette giorni fa Fratelli d'Italia guadagna lo 0,6% arriva al 10,8% Forza Italia perde lo 0,9% al 5,4% guadagna un decimale Italia Viva 4,2% dietro troviamo azione di Caro Calenda al 2,8% più 0,2% sinistra italiana MDP articolo 1 al 2,8% meno 0,3% Verdi al 2,1% più 0,1% più Europa al 2% più 0,1% cambiamo di Toti 1,2% più 0,1% se facciamo la somma aritmetica dell'area di governo e di quella dell'opposizione l'Italia è spaccata in due attorno al 50% da una parte all'altra con una leggera prevalenza del centro destra ma non siamo ad ogni evidenza vicini al voto a meno che davvero non ci sia l'inasprimento della contesa nella maggioranza e il rischio di crisi di governo e a quel punto l'unica strada immaginabile sarebbe quella del ritorno alle urne c'è una vicenda la vicenda di un giovane di un universitario egiziano universitario a Bologna un master a Bologna che rientrato in patria è stato arrestato con l'accusa di terrorismo a prensione sulla sua sorte inutile negare che tutti noi pensiamo sempre a quello che è accaduto di terribile a Giulio Regeni e per quanto riguarda il giovane Zaki c'è una mobilitazione internazionale favorita anche da Amnesty International e non soltanto la speranza è che si muova qualcuno in Egitto e quel qualcuno potrebbe essere la chiesa copta la mobilitazione per Patrick Giorgio Zaki cresce ma rimane limitata all'Italia dove ci si chiede cosa stia accadendo all'egiziano di 27 anni studente dell'università di Bologna tornato a casa per una vacanza venerdì imprigionato e sembra torturato con l'accusa di attentare alla sicurezza dello Stato i media egiziani non si curano di Zaki che all'Alma Mater frequenta da settembre un prestigioso master sugli studi di genere sui social quasi niente e tace anche la chiesa Zaki è cristiano in rete con l'hashtag dov'è Patrick George c'è un ragazzo che chiede dov'è Papa Tawadros Tawadros è il capo della chiesa copta un suo intervento potrebbe essere risolutivo per il regime i buoni rapporti con la chiesa sono fondamentali garantiscono il sostegno dei cristiani ma se Tawadros ha fatto richieste al presidente al Sisi non è dato sapere ecco Mansura la città natale di Zaki 120 km dal Cairo questa è la corte lì dentro c'è la procura che prende disposizioni dalla procura generale del Cairo la stessa che ha indagato anzi ha finto di indagare sul caso Regeni l'ordine di arrestare Zaki è partito da qui dagli uffici del nuovo procuratore generale Hamada Esawi quello che da mesi rinnova agli inquirenti italiani fa sulle promesse di collaborazione ogni giorno in Egitto scompaiono 3-4 persone e molte fanno la fine di giulio nel disinteresse generale ieri alla RAM la voce del regime ha dedicato a Zaki un titolo che è un invito a non impicciarsi il ricercatore egiziano arrestato all'aeroporto del Cairo non è italiano la Farnesina ha chiesto che il procedimento venga seguito da funzionari dell'ambasciata d'Italia al Cairo l'udienza è sabato 22 febbraio giorno in cui la procura potrebbe prolungare la detenzione di Zaki per 15 giorni e poi altri 15 e ancora e ancora chissà per quanto il faro acceso da Roma ha attivato Bruxelles l'organismo che gestisce le relazioni diplomatiche dell'Unione Europea con paesi al di fuori dell'Unione sta valutando il caso con la sua delegazione al Cairo ed è pronta a intraprendere azioni per il rilascio del loro apprezzatissimo compagno di studi gli universitari di Bologna sono al secondo flash mob uno ieri e uno stasera Amnesty Italia ha avviato una raccolta di firme e siamo all'appuntamento col data room di Milena Gabanelli un tema tosto questa sera in Italia 371.000 nuovi casi di tumore nel 2019 le cause conosciute ambientali genetiche stili di vita infettive per l'agenzia governativa americana e per l'istituto internazionale della ricerca sul cancro affinché i governi possono prendere provvedimenti e i cittadini decidere consapevolmente quali rischi correre è cruciale identificare le sostanze che provocano i tumori in circolazione ci sono 140.000 composti chimici sintetizzati e solo per il 7% ci sono informazioni precise per esempio il glifosato uno degli erbicidi più utilizzati a livello planetario fra gli agricoltori si riscontra un elevato tasso di tumori allo stomaco e al pancreas al rene fra i coltivatori di patate e di ulivi fra i frutticoltori invece alla vescica e al colon bene secondo l'agenzia per la protezione ambientale americana non è cancerogeno per quella europea è improbabile che lo sia per l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro è probabile che lo sia e intanto continuiamo ad usare campi magnetici tre studi hanno osservato un numero limitato di cavie per meno di due anni due ore al giorno risultato negativo altri tre fra cui l'agenzia governativa americana e il nostro prestigioso istituto Ramazzini hanno esposto migliaia di cavie 19 ore al giorno e oltre i due anni risultato un aumento dei tumori al cervello di quattro volte in vent'anni conferma il ministero della salute francese che intanto stiamo andando verso il 5G senza avere la certezza dei rischi che stiamo correndo purtroppo sì perché il grosso della ricerca è finanziato dall'industria e il pubblico non si occupa tanto di queste cose spendiamo molto nella ricerca sui nuovi prodotti da mettere sul mercato 80 miliardi di euro in sei anni ci sta mettendo l'Europa ma zero sui prodotti che sono già in commercio in Italia per esempio su cosa provoca i tumori spendiamo soltanto 21 milioni di euro mentre se ne vanno 5 miliardi e 6 in farmaci per curarli di cui 600 milioni e passa in farmaci innovativi bene mese di ottobre 2019 a Barcellona congresso della società europea di oncologia medica esaminati 36 nuovi farmaci approvati oltre la metà aveva un basso valore aggiunto rispetto a quelli già in uso per benefici clinici sopravvivenza qualità di vita cura delle complicazioni però costano il doppio allora che fare Milena è business o è ricerca la ricerca se la ricerca fosse universitaria non sarebbe affidata alle industrie ma le industrie possono permettersela di più perché perché ovviamente producono e se trovano un farmaco è chiaro che diventa anche profittevole oltre che importante per la sopravvivenza però è una come dire è una questione molto molto difficile tutto parte dal fatto che in realtà il campo della ricerca è stato in gran parte abbandonato dai governi da chi dovrebbe sovvenzionare le università e la ricerca indipendente rispetto alle aziende hai già detto tutto tu perché di fatto è così ma non è così che dovrebbe essere allora se non c'è consapevolezza diventa un problema perché ben venga che l'industria farmaceutica ci mancherebbe altro ben vengano i farmaci innovativi ci mancherebbe altro se il però tutto è indirizzato a curare e non a scoprire le ragioni per le quali uno si ammala ed evitare a valle il problema insomma è vero che alla fine di qualcosa dobbiamo tutti morire però è anche vero che sono in aumento i tumori negli adolescenti e nei giovani adulti i tumori alla testa sono in aumento quindi di fronte a queste evidenze è indispensabile prenderne atto e cominciare a muoversi su un altro fronte che è quello della ricerca indipendente perché non è che puoi affidare tutto all'industria l'industria avrà certamente interesse a rallentare tutto quello che in qualche modo limita il suo business è totalmente comprensibile ora il fatto che stiamo andando verso il 5G questo insomma prima di fare questo passo io credo che sia necessario ma questo non è un tema solo italiano è un tema globale avere tutte le informazioni su che cosa può provocare un aumento dell'esposizione cioè i limiti soglia verranno mantenuti quelli che sono adesso in vigore oppure aumenteranno come si dice cioè tutto questo è da studiare e può farlo soltanto il pubblico certo il tema è tosto l'avevo detto presentando il tuo data room di questa sera ma è evidente che se non affrontiamo di petto le situazioni le situazioni poi ci ritrovano completamente impossibilitati a agire a contrare quella che è una sfida la sfida di un male che si estende che questo è un dato obiettivo cari telespettatori lo so benissimo che molti faranno gli scongiuri di questo genere però ci troviamo di fronte a una questione che è garantire aspettativa di vita la più ampia possibile per tutti quanti attraverso la ricerca lo studio l'affiancamento alla benemeritazione delle industrie che si trovano un rimedio efficace magari ci guadagnano anche ma hanno salvato pezzi di umanità interi certo questa è la partita è chiaro che poi non è in un telegiornale con la benemerita scusami Enrico non è no certamente no non è questo non è questo il tema e ci tengo a precisare che con la collega Simona Ravizza abbiamo fatto pulizia di tanti studi minori di tanto di tante cose che si dicono e di cui non c'è prova catastrofistiche quello quello che abbiamo rappresentato è ha delle fonti precise sono quelle autorevoli istituzionali il fatto è questo su questo non c'è discussione ma non c'è dubbio ma già sul glifosato il fatto che esistano tre tre expertise diverse chiamiamole così impropriamente e che sono tutte autorevolissime ci mettono al cospetto del fatto che bisogna studiare studiare cercare di capire sperimentare è una partita lunga e difficile ma ci dovrebbe riguardare tutti il tema è l'indipendenza perché poi le agenzie regolatorie che stabiliscono alla fine quali sono le linee guide in che modo bisogna fare ricerca queste devono essere assolutamente indipendenti e purtroppo non lo sono non sempre quantomeno non sempre e Milena lunedì prossimo non per cambiare abbiamo parlato diffusamente per carità perché non sembrasse che in qualche modo non si prendesse appunto direttamente la questione lunedì prossimo beh lunedì prossimo ci mettiamo in campo ci mettiamo in gioco un po' anche noi che cosa può fare il singolo cittadino per cambiare alcuni modelli e quindi non delegare sempre gli altri a prendere le iniziative va bene si parla di tutti noi puoi sapere il tema non te lo dico va bene ho capito quando fai così vuol dire che ancora lo devi mettere del tutto a fuoco oppure che vuoi tenertelo coperto a lunedì prossimo grazie Milena dopo di noi Lily Gruber a otto e mezzo ospita Marianna Aprile Massimo Giannini Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi ci fermiamo fine le borse vediamo Milano ha chiuso con un più 0,12% con lo spread a 136 punti base in questo momento Wall Street Dow Jones più 0,22% Nasdaq più 0,70% è tutto Gruber ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti